Io ho sentito che tu sei molto nervoso, non credo, però l'ho sentito parlare che sei molto nervoso prima dei tuoi concerti, come, quasi come un torrero. E anche c'è un rito per vestirmi, perché io sono, non sono un torrero, ma penso che la mia maniera di vestirmi risembra, è molto semechanza, c'è una semechanza, non so come si dice in italiano, con il rito del torrero. Io ho visto con il rito, come un torrero.